Il mio libro, Vi dichiaro divorziati, è la testimonianza di una Italia profondamente cambiata dal punto di vista dei costumi, un'Italia che non vede più nel matrimonio l'unico obiettivo. Vi dichiaro divorziati di Giannettore Cassani è un messaggio in senso buono, cioè una visitazione con molta partecipazione affettiva. Io ho raccontato varie storie, ho parlato per esempio di un fenomeno che secondo me è terribile, è il gioco d'azzardo che sta affamando le famiglie. Proprio a questo, cioè alla sottrazione dei minori a livello internazionale, è dedicato un capitolo del suo libro che tra l'altro uscirà mercoledì, che è Vi dichiaro divorziati e questo è il libro. Siamo state delle riforme molto importanti, lo scrivo nel mio libro Vi dichiaro divorziati, quali l'equiparazione dei figli legittimi ai figli naturali, il divorzio breve, la negoziazione assistita, ma c'è ancora molto tanto da. Giannettore Cassani ha scritto, lei è un avvocato, avvocato scrittore, perché non è il suo primo libro in un certo senso. È il secondo, dopo i perplessi sposi. Vi dichiaro divorziati, un libro che descrive, pensate, i risvolti nascosti di una realtà sempre più diffusa, non solo nel nostro paese, l'infedeltà nella coppia. Grazie. Grazie a tutti.